ciao barbie family bentornati in un nuovo video vero angel allora ecco madame adensi prima di andare l'avete visto anche dalla copertina like stavolta l'ho detto per primo iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere la notifica dei nostri video ok perché se no la notifica se non è attivata quando pubblichiamo ok è arrivato l'ora di iniziare ad aprire qualche regalino iniziamo a iniziamo ad aprire e si è schiacciata un pochettino questo qua era il regalo mio e di simona che che abbiamo ricevuto dal nostro sergino link del suo canale in descrizione abbiamo fatto il video dell'apertura vero angel ok e già presenta l'armadio di holly allora questo armadio è simile molto simile forse anche più bello questo di quello di barbie originale non lo so perché le cose che non sono originali mi intrigano molto di più sono molto più belle e ci sono molto più cose questo è il mondo di holly del marco globo liberi di giocare la session bambola pieghevole dice giriamo qua ci sono forse si possono ritagliare non lo so dal 1982 sono nata io qua 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 non lo so qua tutti si forse si possono ritagliare ok qua qua andiamo all'apertura c'è lo scotch e il cartoncino guardate no veramente giù va bene qua c'è una linguetta ecco l'armadio e insieme all'armadio c'è angel c'è la queen suprema angel c'è la bambola io direi di iniziare subitissimo ad aprire la bambola e farvela vedere questo è lo sfondo molto giallo allora la bambola questa forse perché non c'è un armadio e anche io ho pensato è cavolo è snodata è una mad to move è snodata alle gambe alle mani hai gomito la testa si snoda è una bella bionda con occhi è una bella bionda con gli occhi azzurri e il rossetto rosso ha un outfit tutto unito molto bello la magliettina a righe e la gonellina a fiori con una cintura nera e il rubino quella ha il velcro dietro madonna mia ammazzate o ammazzate che velcro duro non sono quelli di mattelicola non sono molto meglio l'outfit molto bello primaverile vedete abbiamo fatto bene ad aprir adesso perché un outfit primaverile molto molto bella è molto snodata cavolino cavoletto la donna è questo è l'armadio rosa per far vedere cosa c'è all'interno dietro è nero qua c'è la maniglia che voi potete portarlo dove volete per aprirlo c'è una clip con il mondo di holly c'è scritto c'è una clipina che qua ci sono le maniglie finte ok si apre così e dentro insieme c'è gli outfit ok che bello allora questo qua è caduto ecco il coso che sta qua qua c'è guarda che c'è il cassetto qua tipo scarpiera tipo scarpiera molto 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 bella si apre tutto stavo cercando di capire che non volevo paura di sforzare e si chiude ok qua andiamo a vedere andiamo a rimuovere tutti i e andiamo a rimettere scusa non vedo l'ontifero allora questo è l'armadio vuoto così come si presenta ok vamos a presentare tutti questi questo una volta che volete chiudere mettete questo ma non ho capito se questo era il camerino si chiude e se lo chiudo con il coseno ok ora andiamo a presentare tutti gli accessori però apriamolo che li mettiamo via intanto gli accessori con lana però questo è di bellezza mi sa perché non si apre è proprio di bellezza con lana oppure gli do un taglio qua che la faccio aprire e la possono indossare che va qua ok dopo vestitino con la sua boccetta in plastica vedete sempre riferito a questo non so se questo penso che sia così il vestitino molto bello e tutto elasticizzato acqua gialli e neri poi c'è quello acqua bello arancione arancione a po a neri e poi c'è questo che è un outfit giallo e la connellina arancione la conne tipo plasticosa si quel però mi piace e retinato davanti in me non mi piace però ma questa come va è elasticizzata e devi allargare devi allargare il bus e questo qua però non so come farglielo ficcare nella testa perché è o sono di bellezza perché qui non si può aprire devo modificare o glielo metti all'interno senza sorbino però si vedrebbe vabbè comunque poi questi una volta che è un abito è così comunque sono tutti tutti uguali potete mettergli sia con gli appesi gli abiti che poi tanto in commercio si trovano le grucce e si possono anche fare io ho fatto il video come si fare fa come si fare questo si troviamo anche gli stivali le scarpette fanno così ma sì 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 si smontano deve smontare per fattere ok con la borsa la borsetta rosa wow e la borsetta rosa andiamo a cinesi due uguali le borsette possiamo metterlo qua la borsetta rosa perché lei si sta però lei si può seguire qua forse nel mentre se vabbè la borsetta si può mettere qua un po per terra o non si sa poi altre due borsettine due borsettine rosa più fashion rosa fipsia una pensavo che era la spazzola spazzola specchio rosa fipsia un cappellino rosa in plastica fipsia un mini spazzola rosa come il capello però qua per farlo rimanere su ci vuole un laccetto un laccettino dovrò fare però molto bello cavolo le scarpe stessa cosa si devono aprire ha detto simona per fargliele indossare quindi noi andiamo ad aprirle che chiamogli il suo colcio a piedino e chiudiamo le scartine gli stivaletti ok che belli c'è anche la versione rosa come la borsetta originale di Barbie di queste si ma a me piace molto di più questo lo sai sì sì no gli stivali dico ah ah è molto più non lo so perché le le cose di di Barbie si sono belle tutto ma sono ci sono gli armadietti che non si aprono ok e poi ci sono le pepette dello stesso colore dello stesso colore vedete che non escono quindi bisogna aprire per farle uscire queste sono dello stesso colore dell'armadio sì 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 ecco qua le scartettine che mi anche le scarpe bisogna aprirle che pirlona che sono ok niente mi piace adesso quando avete finito di giocare voi mettete via tutta la roba l'armadio vostro e con la clips andate a chiuderlo perfetto dimenticata la borsa molto 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 bello sergino ti ringrazio è molto molto bello magari lo useremo in qualcosa tipo the fashion qualche negozio qualcosa ci inventeremo e lo andremo a usare ma anche in casa fontana non sarebbe male bene niente detto questo noi li salutiamo e sergino ti ho ringraziato ma lo sai che piacce e detto così mi sono sempre molto benaccette e me mi ci piacciono tanto tanto seguitelo link ve l'ho detto in descrizione seguita anche noi dato che ci siete like sia noi che a lui al nastro via 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 spollicciate sono 21 vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video mi raccomando continuate a seguirci seguiteci mi raccomando ciao 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 ciao